La serenità al parto è la cosa più bella che ci sia per l'esperienza che si fa a vivere e per far funzionare il meccanismo del travaglio. Sappiamo infatti che da studi scientifici che la paura e lo stress alterano l'andamento del travaglio. Ma come si arriva a serenità al parto? Sicuramente facendo i controlli in gravidanza per assicurarsi che il bambino stia bene, la placenta funzioni correttamente e liquido sia nella norma. La seconda cosa è farsi accompagnare durante la gravidanza dall'ostetrica e seguire i corsi di accompagnamento alla nascita. Sono momenti importanti in cui vengono illustrate le dinamiche del travaglio. E' come affrontare la scalata di una montagna senza conoscere il percorso. E' ovvio che arriveremo a dei momenti di panico e di ansia. Viceversa, conoscere il percorso, lavorare in team ci aiuterà a essere più sicure e affrontando meglio quello che ci aspetta. Quindi la raccomandazione è farsi seguire in gravidanza come da linea guida e seguire i corsi di accompagnamento alla nascita. Qui in Policlinico offriamo ogni mese corsi pre-parto alle mamme e ai loro accompagnatori in piccoli gruppi in cui è possibile condividere sentimenti e dubbi con l'ostetrica di riferimento.